Fonola Maxim RFV7537 trovata nella spazzatura. La mia intenzione era quella di farla esplodere con un bel po' di fumo. Invece sono riuscito a sistemarla. E quindi vediamo un po' come ho fatto. Ok, vogliamo provare? E proviamo. Lampadina in serie, vado... Devo accenderla da davanti. Mmm. Bene. La lampadina è scesa di luminosità. Che è un buon segno. La luce dentro è accesa e le valvole sono accese. Ottimo. Vediamo se si sente qualcosa. Al momento niente. Silenzio totale. A questo punto proviamo senza lampadina. Accendiamo senza lampadina in serie. Vediamo che succede. Mmm. Qui valvole accese. Ma niente di niente. Chissà. Vediamo se il giradischi risponde. Questo lo leviamo dalle palle. Niente. Niente. Però il giradischi gira. Ma non c'è audio. Il giradischi gira. Va bene. Spegniamo. Se riuscissi a chiuderla sarebbe una buona cosa. Ok. Un po' di diagnosi. C'era questo fusibile bruciato. Non capivo. Cioè. Stupidamente non capivo come mai si accendevano le valvole. Le valvole si accendono perché comunque vanno dal trasformatore senza fusibile. Il fusibile sta qua. Quindi la radio non è mai stata accesa in realtà. Questo condensatore era esploso. I pezzi sono questi qua. Esploso completamente. Quindi probabilmente questo diode è a posto. Io penso che abbiano provato a accendere la radio. Si è scoppiato il fusibile e si è esploso questo condensatore perché appunto... ...o forse questi sono in corto. Il filtro. Però è scoppiato lui. È strano che sia scoppiato lui. È in parallelo al fusibile. Va bene. Semionde, cose varie, non lo so. Me ne fotto. Fatto sta che adesso metto il fusibile a zicco la lampadina e proviamo. Allora, procediamo a generare del fumo. Ho visto una piccola scintilla. Non capisco. Sì, c'è del fumo. Ah, ok. C'è del fumo che nasce da qua sotto. Non capisco. Dalla resistenza è a 33 ohm? Può essere. Ci sono ancora pezzi di quel condensatore. Vediamo se riesco a toglierlo. Oppure non capisco. Ah, sì. Eccolo il fumo. Eccolo là. Resistenza a 33 ohm scoppiata. Ok, spegniamo qua. Miracolosamente cambiata la resistenza a 33 ohm. Ho trovata una su questa scheda. E a questo punto vediamo se succede ancora il magic smoke o la magic bomb. L'assorbimento è calato. Bene. I filamenti sono accesi. Ho sentito qualcosa. Sì. C'è vita. Ora, onde. Vediamo un po'. FM. Ovviamente non ho antenna perché l'antenna va collegata. Eh, quel cazzo che te lo dicono qua. L'antenna va collegata qua. Cerchiamo un'antenna. Vediamo. L'antenna. Un'antenna. Un'antenna. Insomma, accendere è complicato. No, allora è questo. Intendo, boh. Abbiamo vita. Una parola che caratterizza un'emozione, l'emozione che sta appena appena. Funziona tutto perfettamente. Perfino le onde corte che ho scoperto andare da circa tre e qualcosa fino a sette e mezzo circa. L'ho scoperto con questo. Praticamente lo uso come un trasmettitore con questa simpatica antenna. Sintonizzo. Adesso sono a fine banda. E non fa più un cazzo. Eccolo qua. Eccolo qua. Quindi 6,9, 6,8 MHz. Bene. Funziona. Immagina, se tutti noi ci prendiamo. E' della natura che ci circonda. FM Italia TV. Radio, web, television. FM Italia TV. 872 del digitale terrestre. La radiovisione in tutta la Sicilia. FM. Direi che va bene. Ho cambiato da resistenza da 33 ohm. Ho messo una da 7 watt. L'ho messa qui. Perché la sotto non c'entrava. Ed è tiepida. Quella che scaldamorda è quella da 1.5. Comunque qua funziona anche l'occhio magico sulle AM. A vedere che non è niente male. 1.511, dicevamo. Come vedete, evapora. che arriva adesso da parte di Bagnelli. Ci spostiamo dunque alla Spezia. A perto di Assi. Spezia Torino. Potrebbe essere normale. Certo, questo è brutto. Però... Questo avevo e questo ho messo. Così come questo qui. Ma devo dire che funziona. Il consumo sul fusibile è di circa... Mi sembra... 50 mA può essere. Mi pare poco. Non mi ricordo. L'ho misurato. Comunque veramente poco. E... Sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto. Anche sulle onde corte ho ricezione. Anche se non trovo stazioni a quest'ora. Quindi a questo punto mi sa che proverò a rimontare il tutto. Vero insieme a Saponana questo è il tridente. Ma vediamo più dettagliatemente il 4-3-3 della formazione dello Spezia che in questo momento si offrisce di una calcio d'angolo dalla margherina di destra. Quindi aspettiamo... La formazione... Centro però il... di... Polvega è troppo alto sull'attarezza. Allora misuriamo il 4-3-3 dello Spezia a zetto tra i pari. Poi la componente difensiva da destra a sinistra. Salva Ferrer. Ismaili Terzi. Marchizza. A centrocampo Ricci in cammina di regia. Maggiore... A centrocampo Ricci in cammina di regia. 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 Grazie a tutti. La radio alla fine funziona, comprese le onde corte, che sono quelle che mi interessavano di più. E' perfetta, onde media a posto. E che palle sempre il calcio, che palle! FM, radio 3, c'è un rumore di fondo anche a volume abbassato, specialmente quando sintonizza una stazione, però insomma l'audio è fantastico, l'audio è semplicemente meraviglioso. Polo Conte, perché c'è Gioco d'Arzado. Polo Conte è stato un suo riferimento? Sì, sì, moltissimo. E poi, beh, poi i giradischi abbiamo visto che funziona, e quindi... Sicuramente si può tarare meglio la parte radio, però per adesso non ci sono messo. Oddio, io non so se è normale. Ne ho messa un po' troppa. Ne ho messa un po' troppa, però così si asciuga facilmente. Io non lo so. Sarà normale? Qua funziona senza problemi. Ho messo un fusibile da 400 mAh. Qui è tutto a posto. L'unica cosa, cioè la tensione è un po' troppo alta in uscita dal fusibile, dal diodo rettificatore. Questo secondo me è dovuto al fatto che oggi abbiamo 230 Volt, non 220. Quindi dovrò sicuramente regolare qualcosa. Dovrò cambiare, secondo me, la resistenza da 33 Ohm all'ingresso del diodo. Qui dovrò portarla tipo a 47, insomma devo fare i calcoli. Ma qua mi sembra che sia tutto ok. Vediamo se riesco a girarla senza fare danno. Riesco a girarla senza fare danno? Ah, non lo so. Io non so, non ho ancora capito se questa radio ha il telaio hot oppure no. Non ho preso la scossa per niente, neanche senza guanti. Comunque, la resistenza da 1500 Ohm è lì che scalda come al solito. Anzi, adesso scalda veramente tanto. Vedete? Adesso sì che scalda. Quindi no, c'è qualcosa che non mi piace qua. Perché scalda così tanto? Ora sta veramente scaldando tanto. Non capisco. Io non capisco. Allora, riepilogando. La corrente sulla 220 ha un picco all'accensione di circa 280-300 mAh. Dopodiché scende e sale a 150 mAh. E da lì non si sposta. Quindi ho messo un fusibile da 400 mAh, il quale sta lì benissimo. Non fa una piega e quindi ok. Ora, resistenza che scalda. Un chilometro e mezzo. Ho messo in serie il miliamperometro. Succede questo. Quando accendo, e sono su radio, fa un picco. Adesso non si vede perché l'ho accesa poco fa la radio. E dopodiché, quando si scaldano le valvole, comincia a salire e arriva a circa 40 mAh, 42 mAh. Il telefono, in qualche caso, magari. La radio si sente. Con da me, ma anche con il telefono. Quindi direi che sia fatto di tutto un luogo antorreficentrico. Quindi, sto ascoltando la radio, che può essere AM, FM o altro. Basso il volume perché tanto non cambia nulla. Cosa succede qui? Che a un capo della resistenza, io misuro 208 Volt. Quindi sul condensatore, su uno dei condensatori di filtro. All'altro capo della resistenza, cioè al trasformatore, io ne misuro 273, il che equivale a una caduta di tensione sulla resistenza di circa 65-68 Volt. Adesso non mi ricordo. Per una corrente di 45 mAh, mi fa all'incirca 3 Watt, poco meno di 3,5 Watt. La resistenza è da 4 Watt. E quindi scalda. È quasi al limite. Però, è lì, fa il suo lavoro. Ma se io commuto a Fono, succede questa cosa. Guardate la corrente sulla resistenza. Tacchete! Siamo a 7 mA. E il Fono funziona, perché se tocco, non è bisogno di alzare il volume, Fono funziona. La caduta di tensione sulla resistenza è scesa tantissimo. È passata qui. Adesso siamo al capo del condensatore. Nel trasformatore ho 272. E al trasformatore ho 283. 282. Quindi adesso ho 10 Volt. 10 Volt, 8 mA e niente. Quindi cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Non lo so. Se torno in radio, per esempio in AM. È esattamente la stessa cosa. Oddio, sono sui 30 mA. Vediamo. FM 40. AM 30. Onde corte 32. TV. Perché questa cosa prende... Ah, la banda TV consuma un sacco addirittura. Ancora peggio. Pazzesco. Pazzesco. Quindi queste sono le onde medie. Queste sono le onde corte. Questa è l'FM. Mi conviene stare sulle onde medie. Andarmi a sintonizzare su Radio Rai. Beh, a questo punto io non so come cazzo è fatta sta radio. Ho misurato di tutto, ho cambiato di tutto. I condensatori sono a posto. Le resistenze sono entro i valori di tolleranza perfettamente. Ah, una cosa che ho fatto è questa resistenza da 33 Ohm in serie al diodo. È diventata da 68 Ohm. 15 Watt, mi pare. Diventa tiepida. Perché così la 230 la porto, la abbasso un po' e adesso ho le tensioni corrette sul telaio, sulle valvole, ho tutto corretto. A questo punto, boh. Ok. Dato che dalle misure che ho fatto sono quasi del tutto convinto che l'assorbimento sulla resistenza da 1,5 Km sia normale, perché insomma 45 mAh, 48 mAh non possono danneggiare il trasformatore di uscita. Almeno credo, eh. però mi sembra che sia tutto così normale. Resistenze a posto, condensatori a posto, valvole a posto, le ho pure cambiate alcune. Nessun cambiamento. Per cui... Vedo dell'ossido. Questo lo devo sistemare. Per cui ho messo una resistenza da 10 Watt. al posto di quella da 4. Quella da 68 sono riuscito a fissarla così, non è molto bello, però non so cos'altro fare, quindi va bene così. E a questo punto pulisco un attimo gli zoccoli delle valvole. Vedo se ci sono ossidazioni. Eh sì, sono un po' tutte ossidate. Questo devo pulirlo così prevengo l'ossidazione. Il fatto è che magari puoi entrare dell'aria. Prevenisco l'ossidazione. Prevenienno. Va bene, ho pulito gli zoccoli. Io accendo per l'ennesima volta, senza nessuno strumento collegato, perché insomma ho fatto quello che si poteva fare, secondo me. Vediamo. Non so quanto stia assorbendo in questo momento, però si è sicuramente accesa. Spero. Sì. Ed eccoci qua, Radio 3. Radio 2 sicuramente. Proviamo le altre bande. Allora. Onde medie. Onde corte, anche se non è orario. Spero forse qualcosa prendiamo. Non ho l'antenna adatta. Non solo disturbi. E Fono. Fono che è discretamente silenzioso. E vediamo un po'. Mmm. Perfetto. Vedo del fumo arzarsi dalla valvola e il disossidante che ho spruzzato, che sta evaporando. Perfetto. Perfetto. Va tutto bene. Im ho. Im ho va tutto bene. No. No. Scrivano ancora il sving �idino da Bronuzio. manca un'antenna per le onde medie vediamo se riesco a collegare un'antenna migliore ho collegato l'antenna del mio impianto radio infatti qua non ricevo più nulla e vediamo un po' io non so se l'antenna va collegata qua o qua vediamo intanto le onde medie non è un'antenna adatta un filare e allora andiamo sulle onde corte beh, arriva qualcosa wow bene direi che funziona l'ultimo passo potrebbe essere una taratura ma non sono sicuro di recuperare il manuale ed è alquanto complicato sono riuscito a tarare l'FM non voglio toccare questi ma ci sono un po' di compensatori variabili che sono questi barilotti qua ci sono anche sotto però non ho idea di come si tari questa radio perché il manuale non riesco a trovarlo perché il manuale non riesco a trovarlo la radio non riesco a trovarlo che funzioni però c'è la banda tv che è inutile riceve dai 180 MHz ora non scendo nei dettagli dai 180 MHz ai 200 e qualche cosa se io riuscissi a scendere sui 150 MHz perlomeno potrei ricevere il bollettino Meteomar sui 156.425 e così ho provato a trasmettere con la mia radio e ricevo sui 165 ora devo usare il telefono per sintonizzare vediamo se ci riesco eccola qua praticamente la radio ha il volume a zero sto ricevendo da qua sono sui 175 MHz quasi alla fine se vado sui 170 mi devo sintonizzare più in basso tipo qua vediamo se riesco a farlo è troppo fuori si sente un po' piano 275 MHz invece ora faccio una prova vediamo di quanto si stara perché sono in frequenza se io prendo questa bobina che ho inserito io e la squarto e la squarto se ci riuscissi sarebbe una buona cosa io la prendo e la squarto eccola qua eccola qua la mia bobina che meraviglia è sempre lì che cazzo devo fare io non lo so che cazzo che cazzo è sempre lì è sempre lì che cazzo che cazzo Beh direi taratura discreta sulle onde corte L'ho abbassata per scendere sui 4 MHz e mezzo Ma vedremo Ed eccola qua Vediamo un po' Partiamo dall'FM Il Partito Democratico Il Partito Democratico 98,7 Radio 3 Ma sono dei tuoi Perfetta Ok TV Logicamente è una banda che non esiste Siamo sui 180 MHz fino ai 240 MHz circa Onde corte, no onde medie Ovviamente computer accesi Provo a spegnere la lampada Ikea No Provo a spegnere l'UPS No Va bene Al diavolo I disturbi non sono evitabili 1,60 Rai Radio 1 Direi che va bene Onde corte Partiamo dall'alto Un segnale Un segnale stana Siamo attorno ai 7 MHz qua 7 MHz Qui c'è la banda radio-materiale Prima arrivava qualcosa Adesso Mi sa non più Ok Andiamo attorno ai 6 Qui c'è la banda radio-materiale Scendiamo Scendiamo sotto ai 5 Dove vorrei tanto trovare Radio Charleston Eh Radio Charleston Arriva Arriva Debole ma arriva E poi qui in basso abbiamo Qualcuno ha acceso qualcosa fuori Qui dovrebbe esserci il buzzer però Direi che va bene Radio Charleston Radio Charleston Arriva con fading Non ci resta che provare Il giradischio Per cui accendiamo una luce Vediamo un po' Fono Allora La voce del padrone Parsifal di Wagner Grande orchestra sinfonica Fabbricata in Italia Non c'è una data Vabbè Mettiamo qui Questo Parsifal in Celluloide 78 giri Pesantissimo Notare la tacca Per far passare il disco All'interno Testina su N Normale Perché l'altro settaggio È per i Per i dischi cosiddetti Microsolco Che sono I 33 giri I 45 giri Ma una volta si usava questo Come normale E vediamo un po' A velocità Un po' a cazzo Perché il disco Insomma Beh Che dire Niente male Un po' a cazzo Qualche problema di velocità Però Va bene così Questo ho dovuto cambiarla Perché era mancante Trovo Giuseppe Grazie a tutti. Dato che il nostro paese è fortemente impegnato nella produzione e nella promozione della stessa cultura, sempre più giovani cominciano a interessarsi alla tutela della fortuna politica. Il segretario generale Xi Jinping una volta ha detto, tanto più lontano si riesce a vedere nel passato, quanto più lontano si può guardare al futuro. Credo che con i nostri sforzi queste posizioni nazionali potremo essere tramandati di generazione in generazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.